Come ce l'hanno presi quell'anno sera, con un decreto fatto di domenica sera, come ce li devono ridare? Non fare a pezzettini a chi sì, a chi no. Non c'è il povero che ha meno e non c'è il ricco che ha di più. Devono ridarceli tutti per bene, senza qualificare il ricco con il povero. Perché anche se uno ha qualcosa di più, sono tutti soldi guadagnati con il nostro sudore, ci abbiamo pagato le tasse e noi rivogliamo ogni cosa. Rimborsati sì, ma soddisfatti non proprio. Dopo cinque mesi di attesa è arrivato il decreto per rimborsare gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche andate in risoluzione il 22 novembre scorso, banche Trudia, Cari Chieti, Cari Ferrara e Banca Marche. Per ristorare gli azzerati è stato stabilito il cosiddetto doppio binario, gli indennizi automatici per poco più della metà dei coinvolti, circa 5.000 risparmiatori, e il ricorso all'arbitrato per gli altri. Il rimborso automatico sarà fino all'80% e riguarderà i risparmiatori con redditi inferiori a 35.000 euro o con un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. I risarcimenti verranno finanziati attraverso il fondo bancario e i contribuenti non dovranno intervenire in alcun modo. Inoltre, i rimborsi riguarderanno solamente gli investitori che hanno comprato le subordinate e entro il 12 giugno 2014 rimarranno così fuori 158 persone che hanno acquistato sul mercato elettronico secondario a prezzi scontati. E nel day after arrivano le prime reazioni dei risparmiatori e delle associazioni di consumatori, non senza qualche polemica. Dubbiamente il governo ha scelto come criterio generale la prima strada che aveva imboccato, cioè quella di costituire un fondo che in qualche modo andasse a ristorare le situazioni più bisognose, cioè quelli che avevano una situazione patrimoniale o un reddito meno consistente. La filosofia è ancora quella. Ed è per questo che si è voluto fare probabilmente un'operazione che stasse nel filone originario in cui il governo aveva ipotizzato questa possibilità di rimborsi. Ma in realtà facendo una cosa che non sta dentro neanche quelle ipotesi che quando facevamo l'incontro al Ministero dell'Economia ci furono detti, che non c'entrava più niente la questione del fondo sociale, ma il governo stava guardando a chi effettivamente non era informato o che comunque questa banca aveva in qualche modo introdotto sul mercato dei prodotti una rischiosità senza dare adeguata informazione e probabilmente anche a soggetti che non avevano una propensione al rischio così elevata, che però in questo regleto non si ritrova. Fare il rimborso in quel sistema lì è per me una cosa sbagliata. Perché o si rimborsano tutti o non si rimborsa nessuno. Perché io su quei soldi ci ho pagato anche le tasse. Le nostre lotte di quattro mesi a Roma, alla Consob, alla Banca d'Italia, davanti al Parlamento, eccetera, eccetera, purtroppo sono servite a poco. Perché di fatto non si sono mossi quasi per nulla da quella che era il loro iniziale punto di vista su questi eventuali rimborsi. Quindi c'è profonda amarezza, profonda rabbia di sicuro.